Non ci sono ancora i cantieri, gli appalti e nemmeno un progetto definitivo, ma contro la costruzione dell'autostrada Ortemestre, nuova grande opera italiana, più che grande, grandiosa, si è già formata una rete di comitati che si ispira alla filosofia dei NotAV. Noi siamo non solo vicini ma anche in contatto con il movimento NotAV e anche con altri movimenti e ovviamente adesso già essendoci uno step, un avanzamento di questo progetto, anche da parte nostra ci sarà un innalzamento del livello di scontro e chiaramente lì ci misureremo. Sembra un copione già scritto quello dei prossimi anni. Il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro, anche se non chiude le porte al dialogo. Ovviamente, come sempre, ascolteremo le osservazioni che ci derivano da tutti, però questo paese ha bisogno di quelle opere che servono, di realizzarle, di realizzarle nei tempi certi. 396 chilometri d'asfalto attraverso 5 regioni, 64 chilometri di gallerie, 20 cavalcavia, 268 sottopassi, per un totale di circa 10 miliardi di euro. È la grande opera più costosa d'Italia e siamo solo alle stime preliminari. Il via libera del Cipe è arrivato l'8 novembre. Dopo neanche 10 giorni, il 16, gli attivisti del comitato Stop Portemestra erano già sdraiati sull'asfalto della statale Romea, che corre parallela al tracciato previsto per la nuova autostrada. Il giorno dopo, riunione dei comitati di protesta di Veneto, Lazio e Umbria, per cominciare a raccogliere fondi, preparare i ricorsi da spedire al TAR e alla Corte Europea e programmare un calendario di azioni sul territorio. La nuova autostrada dovrebbe essere costruita con finanziamenti privati. In pole position, nella corsa all'appalto, il gruppo Bonsignore, che è anche promotore del progetto. Il responsabile dell'impresa, Vito Bonsignore, vicepresidente del PPA al Parlamento Europeo, oltre alle cronache politiche, è noto anche a quelle giudiziarie, per una condanna definitiva a due anni di reclusione perturbativa ad asta nel 2001. Nel 2011 è stato condannato in primo grado per agiotaggio nell'ambito del tentativo di scalata di Anton Veneta del 2005. Se otterrà l'incarico, la sua azienda potrà avvalersi di uno sconto fiscale di circa un miliardo e mezzo di euro e potrà incassare i pedaggi della Orte Mestre, stando alle ipotesi progettuali, per circa 40 anni. Ma oltre al progetto approvato dal Cipe, ce n'è un altro, parallelo, che ha ricevuto assai meno pubblicità e che peserà direttamente sulle casse dello Stato. È il piano di opere complementari, 861 milioni di euro per una superstrada fra Civitavecchia e Orte, 720 milioni di euro per il raccordo attorno a Perugia, più bretelle, svincoli, collegamenti, tutto a carico dell'amministrazione pubblica. Il costo complessivo dei lavori, fra opere principali e collegate, sarà molto più alto, quindi di 10 miliardi di euro. Anche la durata dei lavori è un piccolo mistero. Nello studio di impatto ambientale dell'ANAS, che risale al 2007, c'è il cronoprogramma. I cantieri dovrebbero restare aperti per 19 anni. Ma nell'ultimo comunicato del Ministero dei Trasporti c'è una sorpresa. Durata prevista dei lavori, sei anni. Per un'opera di queste proporzioni è pochissimo. Dal 2007 a oggi l'elenco dei lavori e dei costi è aumentato. Come sarà possibile allora ridurre di un terzo la durata dei lavori? Il mistero sarà svelato, si presume, quando il Cipe renderà pubblico il testo della delibera dell'8 novembre scorso.